Da pochissimo è uscito col suo ultimo disco intitolato Un'idea, dal quale oggi ci fa ascoltare questa La vita è una giostra. Laura, benvenuti! La vita è una musica e non puoi perdere la strada se la strada è dentro di te Ma se tu sogni hai una nucciola Dentro una favola di perdere e ti innamorerai Seguimi con i tuoi passi così piccoli e le tue mani così liberi il fuoco della tua terra E quando scoprirai un tuo limite Con una stella io ti guiderò e ti illuminerai La vita è una giostra che gira per noi Tu farla girare e ti divertirai Parlando col mondo il mondo scoprirai Per ogni tuo passo crescendo volerai che c'è no Fermati Oltre i tuoi passi c'è una musica e non puoi perdere la strada se la strada dentro di te e non puoi perdere alla musica a pensare alla tua musica a scrivere le tue canzoni a un'età matura diciamo così come sei arrivata questa è una bossa penso sì diciamo che c'è nel disco ci sono varie sonorità dalla bossa al jazz al pop quindi è un po' un disco che rappresenta quelle che sono le mie passioni e i generi chiamoli più essenzialmente sono la bossa il jazz però la domanda che tu l'osservazione che hai fatto io in realtà ho cominciato a studiare piano forte avevo dieci anni a scrivere la prima parola dell'altro mondo e la mia prima esedizione come cantautrice la feci a 19 anni all'altro mondo studio durante un concorso che insomma dove ho portato il mio primo grano inedito e poi ho cominciato a studiare flauto traverso quando iniziai l'università a Bologna e lì cominciai ad esibirmi nei primi locali piccolini a Bologna avevo questo duo facevo appunto bossa nova flauto voce chitarra quindi in realtà non ho mai smesso di suonare e di studiare poi ad un certo punto della mia vita ho sentito questa esigenza forte di di manifestare un po' questa passione perché ero stanca di viverla su un posto sempre a metà ho detto basta adesso faccio questa cosa non so una cosa grande credo e cantare mi fa stare bene suonare mi fa stare bene e voglio condividere questa gioia e questa passione con gli altri e lì è nata quest'idea quest'idea infatti il disco si chiama un'idea in vendita alla cassa l'uscita chi volesse acquistarlo è lì disponibile Laura presenta i ragazzi con i quali tu comunque condividi questa tua idea questo tuo sogno musicale che ti accompagna è un'idea un'idea un'idea